Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla videorubrica segnalazioni, che mi segnala appunto ciò che si può trovare di interessante provistando l'immensa discarica del web per l'insegnamento e l'apprendimento. In questo video volevo segnalarvi l'immensa biblioteca di infografiche dedicate a opere letterarie ma che spaziano in ogni genere, dalla filosofia alla fantascienza, alle scienze, alla matematica eccetera, presente su Cursiro. Cursiro è una piattaforma web che fornisce un ambiente di collaborazione a docenti e studenti e che contiene tanti materiali, risorse e contenuti per l'apprendimento e l'insegnamento, guida, infografiche, video, lezioni, spiegazioni, tutorial, domande e risposte, assistenza ai tutoraggi, il tutto fornito dagli utenti stessi che si incontrano su questa piattaforma. Questo è l'indirizzo web, appunto, Cursiro.com e vediamo qualche informazione generale prima su questa iniziativa. La società è stata fondata nel 2006 da Andrew Grauer alla Cornell University, conta oggi 17 milioni di utenti attivi, 18 mila tutor e 20 milioni di contenuti condivisi. Inizialmente si trattava soltanto di un ambiente per condividere gli appunti delle lezioni universitarie tra gli studenti della Cornell University. In seguito si è sviluppato fino a diventare un sito leader nell'apprendimento online che appunto si basa sull'idea di mettere insieme docenti e studenti, delle scuole anche secondarie e farli collaborare, offrire corsi e offrire materiali. Quindi la cooperazione tra docenti e studenti che sono utenti di Cursiro è fondamentale e si possono dialogare con domande e risposte. L'obiettivo è quello di costituire una grande biblioteca del sapere digitale finalizzata a favorire il successo nell'apprendimento. Quasi tutti i materiali di Cursiro si possono navigare liberamente, ma non si possono scaricare a meno che non si paghi l'amoramento mensile. All'anno costa circa 100 euro, 315-120 dollari di un centinaio di euro, oppure si carichino i materiali, possiamo infatti caricare i nostri materiali, i nostri documenti e questo ci permette di partecipare a un sistema di crediti che ci consente di avere accesso gratuito a determinati documenti e di poterli scaricare. Oltre agli appunti possiamo disporre di un servizio di tutoraggio e riceveremo entro tre giorni una risposta alle nostre domande e di percorsi di apprendimento che nascono dalla aggregazione di contenuti presenti sul web. Bene, è meglio registrarsi, la registrazione è gratuita, procede come per tutti gli altri siti di questo tipo. Io adesso mi loggerò. Eccomi ora nella immensa biblioteca di letteratura di Cursiro, metterò il link nel box descrittivo del video, dove ho accesso a migliaia e migliaia di libri di tutte le epoche, di tutti gli autori, di tutte le letterature. Possiamo cercare qualsiasi cosa, per esempio Dante, l'inferno, e abbiamo accesso a una serie di risorse sull'inferno di Dante. Possono esserci dei video come questi, ovviamente tutto in inglese, qui abbiamo tutti i canti dell'inferno. La pagina iniziale è una pagina che mi dà un quadro d'insieme dell'opera. Possiamo, vedete, fare delle domande, ci sono adesso in questo momento 220 tutors online. Qui abbiamo l'autore, il genere, l'età in cui è stato scritto, eccetera, eccetera, dal punto di vista del narratore, e così via. Qui abbiamo diagrammi dell'opera, il plot, la timeline, la mappa dei personaggi, un riassunto, i personaggi, eccetera, eccetera. Vedete, qui possiamo navigare nell'infografica, che è molto bella. Ecco, questa è l'infografica che riassume l'inferno, questa è molto bella per fare, per esempio, organizzare una video-lezione sull'inferno. L'infografica è organizzata secondo questo menu sulla sinistra. Questo vale per tutte le centinaia, se non migliaia, di opere presenti sul cursino. Quindi abbiamo, appunto, il quadro generale dell'opera, abbiamo l'ambiente, e così via. Vediamo un po' questo menu. Abbiamo il contesto storico, naturalmente è tutto in inglese. Cosa si può fare? Si può cliccare col tasto destro del mouse, se avete Chrome, si fa in questo modo, ma anche gli altri browser hanno un sistema di traduzione automatico e tradurre l'italiano. Come vedete, alla fine del XII secolo l'Italia non era un paese unito, le singole città, statue, hanno dialetti e culture molto diverse. È una traduzione assolutamente accettabile, non in tutti i punti è così chiara, ma insomma funziona abbastanza bene. Poi abbiamo il sistema dei personaggi, Dante, Virgil e così via. Qui abbiamo anche la possibilità di accedere a una pagina sull'analisi dei vari personaggi, Dante, Virgilio, abbiamo una mappa, ecco. Poi abbiamo un riassunto della trama, anche qui tradotto automaticamente in italiano, l'inferno si apre quando il poeta Dante, il narratore protagonista si ritrova in una foresta oscura, vedete, è molto chiaro. Qui abbiamo il riassunto di tutti i canti, delle citazioni, poi abbiamo ancora l'analisi dei simboli, i temi trattati, insomma è veramente un quadro di insieme interessante. Qui abbiamo anche le domande. Quindi domande fatte da studenti e le risposte dei tutor a queste domande, anche in questo caso le possiamo tradurre in italiano. Curiosità e letture suggerite. Ecco, possiamo trovare praticamente la stessa cosa per altre centinaia e centinaia di opere di ogni genere, dalla fantascienza al romanzo autobiografico, al romanzo di formazione, ai classici, vedete, Barry Finn, alla gamennone, quindi la letteratura classica, alla tragedia, alla commedia, lì c'è il Paese delle Meraviglie, sono veramente, guardate quanti sono, tantissimi, tantissimi, la cosa più bella però sono le infografiche. Prendiamo per esempio l'interpretazione dei sogni di Freud, abbiamo il subito apparato critico interpretativo che possiamo tradurre in italiano, ma la cosa più interessante sono, come dicevo, le infografiche che possiamo utilizzare per una lezione, possiamo tradurre, possiamo fare una video lezione, ecco, questa è l'interpretazione dei sogni di Freud e possiamo anche scaricare, se siamo logati e registrati, possiamo scaricare anche l'infografica, vedete, è organizzata l'infografica, oltre a tutte le informazioni, per scaricarla basta cliccare qui, non so se ci sia un limite adesso nella quantità di infografiche che si possono scaricare, come vedete io qui ho scaricato tutto il materiale presente nel sito su Freud e ovviamente in inglese e ho scaricato anche una infografica, in detto di questo Nathaniel Pilbry che non conosco, noi abbiamo appunto l'infografica del romanzo evidentemente. Tornando all'interpretazione dei sogni, oltre alla guida allo studio abbiamo dei documenti allegati, che possono essere presentazioni, appunto, riassunti attinenti a Freud, alla psicanalisi, a Adler e a tutto ciò che ha a che fare con la psicologia, domande e risposte sull'argomento e discussioni, anche questo può essere tutto qui, discussioni non ce ne sono, può essere tradotto in italiano. Bene, spero che vi possa tornare utile, in effetti è un sito molto bello, soprattutto questa parte, che si può utilizzare nonostante la lingua e l'avventura di Shermock-Cold, ma bene anche per le scuole, non dico proprio di ogni ordine grado, ma certamente anche per le scuole superiori e secondarie, ma insomma le scuole medie ragazzi. Ok, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie.